L'appuntamento con il PNRR rappresenta un bivio storico e ripetibile per il meridione e le aree interne. Due fragilità che si assommano possono moltiplicare i fattori di debolezza o potenziare le occasioni di rilancio. Si è parlato di questo nel seminario organizzato dalla Fondazione Magna Carta e dalla Fondazione con il Sud. L'iniziativa è nazionale, ha visto relatori di primo ordine giunti da tutta Italia. Il tema demografico per Quagliarello sta al centro, sta assumendo contorni drammatici in alcune zone. Ci sono luoghi che rischiano la desertificazione e lo spopolamento. Il tema va affrontato ora per il senatore, viste le grandi opportunità che i nuovi fondi offrono. I compiti sono due. Uno, vedere quali sono veramente le risorse che si possono spendere. Quindi finire di favoleggiare e invece concretamente misurare quello che è possibile fare. Due, le progettualità. E queste possono essere sia progettualità di ogni singolo soggetto, sia progettualità trasversali che mettono insieme soggetti differenti. A moderare i lavori il giornalista Antonio Polito. Alla prima sessione dei lavori è partecipato il ministro per il Sud, Mara Carfagna, intervenuta in videoconferenza. Ha sottolineato come si è saltato il modello secondo il quale Nord trenava il Sud e con il PNRR il Sud può invece essere un motore. La Carfagna ha annunciato un bando per assumere ingegneri, architetti e altre figure nelle pubbliche amministrazioni e 120 milioni di euro per sostenere i comuni. Il nuovo modello di Sud si disegnerà attraverso tre assi, alta velocità ferroviaria, modernizzazione dei porti e valorizzazione delle zone economiche speciali. In collegamento il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in presenza c'era pure il sindaco Pierluigi Biondi. Per lui il vero problema è il rafforzamento degli enti territoriali e anche quello della semplificazione. Attualmente soprattutto la rete dei piccoli comuni è sguarnita di figure professionali di ogni genere, ma anche comuni di media di pensioni come l'Aquila hanno delle difficoltà. Se non si dà una rimmigorita agli enti territoriali rischieremo di lasciare sulla carta tante denne e non trasformarli in investimenti e quindi in pille, in occupazione e benefici per le generazioni future.